Come Ministero del Lavoro stiamo preparando ed elaborando delle norme che vadano a tutela di tutte le imprese, i lavoratori e le famiglie italiane dalla previsione dell'allargamento degli ammortizzatori sociali già esistenti alla possibilità di utilizzo del fondo di integrazione salariale per le aziende che vanno anche dai 5 ai 15 dipendenti e a una cassa in deroga speciale che vada a tutelare con uno stanziamento importante di risorse che vada a tutelare tutti i lavoratori indipendentemente dal settore a cui appartengono su tutto il territorio nazionale. Le norme verranno correlate anche da norme per la famiglia con previsioni di congedo parentale speciale per tutte le famiglie italiane e in alternativa la possibilità di utilizzare un voucher babysitter. Si prevederanno delle norme speciali per stagionali e autonomi anche con previsione di sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in modo da tutelare tutti i settori che sono stati colpiti e che vengono colpiti dall'emergenza.